cari amici buona giornata oggi iniziamo quello che nella chiesa è chiamato il tempo ordinario tempo di natale è finito con la festa del battesimo di gesù ora cominciano i giorni feriali il tempo in cui la comunità cristiana ci accompagna nella lettura del vangelo nella conoscenza di gesù nella crescita della nostra fede lo fa presentandoci innanzitutto il vangelo di marco che ascoltiamo il vangelo di marco al capitolo primo versetti 14 20 dopo che giovanni fu arrestato gesù andò nella galilea proclamando il vangelo di dio e diceva il tempo è compiuto il regno di dio è vicino convertitevi e credete nel vangelo passando lungo il mare di galilea vide simone e andrea fratello di simone mentre gettavano le reti in mare erano infatti pescatori gesù disse loro venite dietro a me vi farò diventare pescatori di uomini e subito lasciarono le reti e lo seguirono andando un poco oltre vide giacomo figlio di zebedeo e giovanni suo fratello mentre anch'essi nella barca riparavano le reti subito li chiamò ed essi lasciarono il loro padre zebedeo nella barca con i garzoni e andarono dietro a lui si descrive l'inizio dell'attività di gesù gesù aveva ricevuto il battesimo era andato nel deserto ha subito e vinto le tentazioni ora prende una decisione nuova ritorna nella galilea dalla regione del giordano dove stava dal deserto dove si era ritirato ritorna in galilea la terra dove c'è nazareth cafarno le città dove gesù svolgerà la gran parte della sua attività questa decisione è presa a partire da una notizia l'arresto di giovanni il battista di fronte a questa notizia che descrive come nel mondo il male la violenza tende a prevalere la forza di erode blocca la libertà con cui giovanni battista lo rimproverava ecco gesù di fronte a questa notizia non interviene cercando di usare la sua potenza per liberarlo ma inizia una sua attività nuova gesù si ricorderà di questa cattura e spesso ritornerà a parlarne per descrivere la sua sorte anche lui come giovanni battista sarà consegnato nelle mani degli uomini sarà consegnato nel sinedrio sarà consegnato agli stranieri ai romani e sarà messo a morte anche la sua comunità dirà sarete consegnati nei tribunali dunque l'incontro con gesù non è l'incontro con una assicurazione sulla vita che ti preserva dalla lotta e dalla contraddizione com'è che gesù interviene qual è la novità che vuole annunciare al mondo perché la sua prima attività è proprio quella di gridare una notizia quale notizia grida il tempo è compiuto il regno di dio è vicino il suo grido descrive ciò che dio fa per l'uomo è un annuncio che porta la certezza che il cielo ormai si è aperto sulla storia il tempo è compiuto noi contiamo gli anni dalla nascita di gesù paolo ha detto quando venne la pianeta dei tempi il padre dio inviò suo figlio noi riconosciamo che la presenza di gesù dà il tempo un valore nuovo non è soltanto lo scorrere dei minuti dei secondi che ci conduce lo scorrere che ci conduce alla morte ma è un tempo abitato dalla presenza di dio di dio che opera questa è la grande notizia che gesù vuole gridare e la grida anche a noi e questa pienezza si concretizza nell'espressione regno di dio è vicino regno di dio indica la regalità di dio israele ha espresso questa certezza nella regalità di dio dicendo dio regna proprio nel momento in cui usciva dall'egitto della schiavitù lo ha gridato appena aveva attraversato il mar rosso e dicendo dio regna israele ha detto certo noi rischiamo di avere dei padroni che vogliono renderci schiavi il faraone però dio è più forte e garantisce il nostro cammino verso la libertà e il regno di dio è capace di creare comunità nuova dove non è la violenza non è il forte nel senso di oppressore a regnare ma la regalità di dio è una regalità che libera che crea comunità dove le relazioni diventano libere questa è la speranza gesù dice dunque dio è all'opera e il suo regno è vicino non è ancora compiuto dire vicino vuol dire che è qualcosa che è a portata di mano ma ancora non si è pienamente realizzato ecco per esempio la violenza su giovanni battista è ancora un segno di un regno che non si è ancora completamente realizzato allora di fronte a questa certezza che pur dentro a una pienezza non ancora raggiunta però il regno è all'opera quale atteggiamento deve avere l'uomo al grido di gesù il tempo è compiuto il regno di dio è vicino corrispondono poi due imperativi che vogliono mettere l'ascoltatore nella posizione giusta convertitevi cambiate mentalità e credete nel vangelo a partire dal vangelo c'è dalla bella notizia che dio è all'opera che dio vuol cambiare la tua vita l'atteggiamento che devi assumere prima di tutto credere evidentemente la fede è necessaria perché si crede a ciò che ancora non si vede pienamente e noi non vediamo ancora pienamente la realizzazione del regno vediamo ancora la contraddizione la sofferenza vediamo ancora il nostro peccato il peccato degli altri anche la comunità cristiana è segnata da relazioni di violenza di ingiustizia di orgoglio di avidità ecco credere vuol dire che dentro a questa storia controversa dio sta operando e quindi io non mi dimentico di lui la grande conseguenza del regno vicino non ancora pienamente realizzato è che possiamo correre il rischio di dimenticarci che dio è all'opera quindi credete che realmente dio opera e convertitevi convertitevi cioè cambiate mentalità proprio una mentalità di persone che credono ecco l'invito che poi si traduce nell'esempio vissuto dai quattro discepoli che pongono realmente la loro vita dentro la direzione la convertono cioè la pongono della direzione di un'obbedienza al regno di dio riconosciuto nella persona di gesù e formano la prima comunità di coloro che credono chiediamo al signore oggi di risentire questo grido di gesù di aprirci a questa visione della realtà che non nasconde la contraddizione come gesù non ha nascosto la contraddizione della incarcerazione del battista ma che ha fiducia in dio e che lascia che dio operi nella propria vita e chiede a noi di seguirlo di metterlo al primo posto di riconoscere qui i legami della comunità che descrivono il gruppo delle persone che vogliono mettere il signore al primo posto che il signore ci aiuti in questo cammino